Giacomo D'Apollonio oggi qui per ufficializzare la sua candidatura. Sì esattamente, oggi ufficialmente io do la mia piena disponibilità alla candidatura anche perché abbiamo raccolto veramente dei consensi molto forti da tante persone per cui le deluderei e quindi ho deciso di andare avanti proprio per mettermi in discussione un'altra volta su temi così importanti che riguardano la nostra città. La gente sta rispondendo però una parte del centro-destra che tre anni fa la appoggiava quest'anno non sarà con lei, Forza Italia in particolare, perché questo? Questo bisognerebbe chiederlo a loro, evidentemente ci sono state delle incomprensioni, io non le ho capite anche perché sono stato il loro candidato, sono stato scelto da loro l'altra volta e la cosa mi meraviglia, insomma, non poco. Ho sentito dire che il candidato perdente non si ricandida, questa è una battuta che reputo abbastanza superficiale, evidentemente oppure non si conoscono le situazioni del momento dell'epoca. All'epoca, se noi ce lo ricordiamo, il centro-destra era dato al 20% circa di possibilità di successo, quindi dall'altra parte si era creata, se ricordiamo bene, una vera e propria armata dove c'era stata una forte migrazione di soggetti dal centro-destra verso il centro-sinistra, quindi c'era una situazione molto difficile. Io mi sono prestato volentieri pur sapendo della difficoltà, guarda caso molti politici in quell'occasione si sono defilati, evidentemente erano sicuri della sconfitta, io invece l'ho fatto e credo di aver dato un valore aggiunto alla coalizione perché poi siamo arrivati al 43%, anzi preciso, io ho preso più voti, la mia persona ha preso più voti delle liste che appoggiavano, quindi ho preso quasi 4 punti in più, il che non è poco, mentre il candidato del centro-sinistra ha preso 6 punti in meno rispetto alle liste, questo credo è il valore aggiunto di averlo dato alle liste, quindi non si può dire che sono un candidato perdente. Peraltro proprio Gabriele Melogli, che poi è stato sindaco per dieci anni, alla prima volta che si è candidato, ebbe una netta sconfitta rispetto al candidato del centro-sinistra dell'epoca. Alla luce di queste considerazioni si sente tradito da Forza Italia? Ma è un atteggiamento sicuramente che io non comprendo, per me è incomprensibile un atteggiamento del genere, anche perché loro hanno parlato di fughi in avanti, di imposizioni, quello che ho letto dalle cronache, perché poi a me nessuno mi ha interpellato, nessuno ha chiesto nulla. Però mi risulta anche che loro hanno messo dei veti, e con i veti non si va arrivare da nessuna parte. Invece questo centro-destra, così spaccato in più tronconi, dove può arrivare secondo lei? Ma centro-destra, io intanto mi sono candidato, e questa per me è stata una condizione importante, quella di unire sia movimenti e partiti politici, ma anche e soprattutto gente della società civile, cioè persone che non si riconoscono nei partiti o comunque sono stanchi di una certa politica. Quindi una coalizione molto più ampia. Era una delle condizioni che io chiedevo, e questo si sta realizzando. Michele Iorio, proprio questa volta, devo dire, il percorso della mia candidatura e del sostegno che ho avuto da Michele Iorio, che è un personaggio della politica ormai noto, io peraltro non sono stato mai legato a carrozzoni politici né a personaggi politici, perché ho fatto tutt'altro nella mia vita. L'ho conosciuto in occasione delle passate tornate elettorali, questa volta io ho fatto le mie dichiarazioni ponendo le mie condizioni, in maniera assolutamente autonoma Iorio è venuto, ha condiviso questo mio percorso e mi ha dato il suo sostegno. Il suo competitor reale sarà l'altro centro-destra di Melogli o il centro-sinistra di Frattura? Ma non lo so, io non mi candido contro nessuno, questa è una cosa che continuo a dire, io mi candido per la mia città, per i miei cittadini, per i miei concittadini, per risolvere i problemi della nostra città, questa è la mia proposta, contro proprio, contro nessuno.